Torre Belvicino, scontro tra tre auto, due persone rimaste seriamente ferite. Il sinistro questa mattina è in via rimembranza dai rilievi della Polizia Alto Vicentino. Una Golf condotta da un 28enne diretta a Valli del Pasubio ha invaso l'opposta corsia di marcia andando a scontrarsi contro una Toyota RAV4. A seguito dell'urto la Golf è rimbalzata andando a tamponare una Panda. Ad avere la peggio il conducente e la passeggera dell'utilitaria trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Orso.